Un'altra estate senza bike sharing in Capitanata e siamo a quattro. A due mesi dall'aggiudicazione del bando di gara della provincia di Foggia, la Barese, Ecologica, l'SRL, all'ATI Bolognese, Centro in Bici, infatti ancora nessuna firma alla convenzione propedeutica all'avvio dei lavori per l'installazione e la fornitura in tre centri di Capitanata, Foggia, Manfredoni e Vieste, di biciclette pubbliche e relative postazioni che i cittadini potranno noleggiare per spostarsi dietro pagamento di un ticket. 100 a Foggia, 48 a Manfredonia, 60 a Vieste. A Palazzo Dogane tutto pronto, dicono, si attende solo l'ultima parte della documentazione che dovrebbe inoltrare l'Agenzia delle Entrate, ordinaria pastoia burocratica, insomma, l'ultima sollecitazione da Piazza 20 Settembre la settimana scorsa. Quindi, siglata la convenzione, ci vorranno almeno tre mesi prima che i lavori siano realizzati. Va da sé che prima dell'autunno non si vedranno biciclette girare in città. Ricenziato un anno fa dalla Giunta Pepe, dopo numerose rivisitazioni, il progetto, che rientra nel piano d'esecuzione provinciale triennale del programma regionale di tutela ambientale, si trascina da molto più tempo. L'appalto è da 320 mila euro e le società aggiudicatrici dovranno anche garantire la manutenzione biennale di bici, ciclostazioni e rastrelliere. Foggia avrà 12 ciclostazioni e 20 rastrelliere, presso i parcheggi Ginetto, Zuretti, Russo, gli ospedali riuniti, lente fiere ed altre postazioni. Ancora in alto mare, invece, la gestione del servizio si auspica una collaborazione tra le tre amministrazioni comunali, ma manca la volontà politica, lamenta l'assessore provinciale all'ambiente Stefano Pecorella, che pare sia incappato anche nell'impossibilità di utilizzare giorni fa una delle famose 350 biciclette verdi presentate in Pompamagna qualche mese fa a Palazzo Togana. C'è un interministeriale assurdo per prendere le chiavi, ecco perché sono ferme lì, lamenta l'assessore, ma da via Telesforo il dirigente Domenico Dattoli smentisce e garantisce le biciclette vengono usate, ma da chi? Pare che a pedalare siano soprattutto i dipendenti dell'ente, pochissimi consiglieri mai visti, conferma Dattoli, tra gli amministratori solo Billaconsiglio. Certo è che in giro non se ne vedono, all'ente provincia ne sono state assegnate circa 60, il resto smistato su scuole ed associazioni, ma anche qui pare restino abbandonate né sotto scala degli istituti. Una scuola ci ha chiesto addirittura di poterle mettere in palio come premio di fine anno, lamenta Dattoli. Ogni bicicletta, lo ricordiamo, è costata 63 euro alle casse provinciali, a dare soddisfazioni solo all'associazione Cechi, alla quale sono stati consegnati quattro tandem da 400 euro ciascuno ed è stata inoltrata richiesta per altri quattro.